Ciao runners e ciao amanti della corsa, io sono Lorenzo Maggiani e questo è il podcast da 0 a 42. Spesso, di solito, ci vogliono tanti tanti anni di allenamenti consecutivi per arrivare a un certo livello, ma evidentemente si può anche passare da uno sport che non è la corsa e andarci a questo, o meglio ancora sul trail running, e farlo proprio alla grandissima. Io come si faccia non lo so, ma ce lo dirà l'ospite di questa sera, di questa puntata, e quindi diamo subito il benvenuto su da 0 a 42 a Denise Zacco. Ciao a tutti e ciao Lorenzo, grazie di avermi invitato, sono onorata. Troppo gentile, grazie a te di essere qui, mi fa veramente piacere, lo dico con tutto il cuore, veramente, ero un po' che seguivo e volevo invitarti, poi alla fine ho trovato il momento buono, il buco per... Bene. Intanto presentati, dici chi sai che cosa fai nel resto della vita, poi della corsa ne parliamo tutto il tempo. Allora, tanto per iniziare mi scuso se mi presento col cerotto, ma sono influenzata e non riesco a parlare e a respirare contemporaneamente, quindi a parte questo. Allora, mi chiamo Denise, ho 32 anni, sono originaria di Genova, però attualmente lavoro e vivo a Trento, lavoro in polizia penitenziaria, sono un agente di polizia penitenziaria, e nel tempo libero corro, corro in montagna, mi sono appassionata alla corsa in montagna, la pratico, diciamo faccio gare da circa poco meno di due anni, però ho sempre vissuto di sport perché prima di iniziare con la corsa ho sempre fatto canottaggio olimpico, quello degli a bagnale, per intendersi che nessuno lo conosce, ma io lo sottolineo perché non è la canoa. A buon livello comunque sono stata, l'ho fatto per tanti anni, sono stata in nazionale, ho preso medaglia ai mondiali, comunque un discreto livello, l'ho fatto per circa undici anni, dopodiché non mi sentivo, non mi faceva più piacere, non sentivo che mi dava più il benessere che mi ha dato modo di iniziare, diciamo, che mi ha dato l'input di iniziare a praticare sport, e quindi ho detto basta, non è più cosa per me, perché per me il benessere e lo star bene deve essere sempre in primo piano, e il divertimento ovviamente, e quindi mi sono disintossicata completamente entrando nell'esercito, proprio per staccare e cambiare totalmente vita. Mi sono arruolata nell'esercito, dove poi mi sono appassionata comunque agli sport di montagna, al trekking, all'arrampicata, comunque ho avuto modo di provarli, però non avevo modo di allenarmi o di comunque di fare attività, chiamiamole di fatica, di quella che io reputavo fatica, diciamo, quella che comunque mi faceva star bene, che mi appassiona anche adesso, e quindi ho deciso di iniziare a correre, perché era la cosa più semplice che potessi fare nel poco tempo libero che avevo, e insomma ho iniziato a correre e a correre sempre di più, un'ora, due ore, insomma spingermi sempre oltre, e quindi avevo voglia di vedere quanto riuscissi a correre, per quanto tempo. E da lì ho iniziato, ho scoperto il trail running, poi è stato tutto un susseguirsi di circostanze, sono riuscita a entrare in Brux, cioè a collaborare con la Brux, ho conosciuto il mio preparatore, insomma tutte queste cose qua. Nel frattempo ero entrata in polizia, avevo una stabilità economica, e quindi ho detto continuiamo su questa strada, e ora sono qua, che mi diverto a fare gare di ultra trail running, ultra running, insomma questo è il succo un po' della mia vita. Perfetto, adesso la ripercorriamo un po' più nel dettaglio, diciamo così, che è stato il riassuntone, perfetto tra l'altro, assolutamente. Ma infatti tu, come dicevamo, vieni dal canottaggio e da tanti anni di sport, e quindi chiaramente il motore, diciamo così, di base c'era. Però una domanda, non dico tecnica, ma comunque, com'è stata la transizione proprio a livello di muscolatura, di movimenti, di allenamenti, da uno sport comunque abbastanza diverso, che prenderà dei gruppi muscolari diversi alla corsa? È stata difficile, perché comunque il canottaggio è uno sport di mezzo fondo, che include un po' sia resistenza, ma anche velocità, quindi è un po' una via di mezzo, che non ha nulla a che fare con, secondo me, la corsa di endurance. E infatti, come allenamento è tutto un'altra cosa. Per dire, se parliamo di carichi, nella corsa tu non ti puoi permettere di fare carichi elevati costantemente, senza recuperare, perché è molto più traumatica rispetto al canottaggio. Quindi nel canottaggio, per dire, una preparazione di quattro settimane possono essere di carico e una di scarico, ma durante la settimana tu vai in carico continuo e sempre maggiore, mentre nella corsa non ti puoi permettere questo, soprattutto se non sei professionista. E diciamo che questa transizione all'inizio mi sono allenata un po' a caso, documentandomi comunque con i vari libri, che ne ho una pila, sono appassionata da Kilian a qualsiasi cosa, programmazione varia, ma sono sempre stata appassionata. E poi ho conosciuto il mio preparatore, che secondo me è fondamentale, è stato fondamentale in questa transizione, perché giusto per calibrare i carichi, non fare troppo né troppo poco. E lui, tra l'altro, Michele Evangelisti, anche lui viene dal canottaggio, quindi capiva bene qual era la mia difficoltà nel gestire queste due cose, questi due modi di allenarsi. E quindi mi sono fatta aiutare da lui, tuttora mi allena lui, e quindi sicuramente però il fatto che ne vengo da uno sport, io penso di sapermi allenare, nel senso che le sensazioni le conosco, quello che mi serve comunque è la gestione del carico, queste cose qua, da uno che ha fatto gare su gare, molto più esperto di me, e quindi secondo me ti devi affidare per forza a qualcuno, se non vuoi fare cavolate, infortunarti, perché qua parliamo di gare da 120 chilometri, insomma, non è banale. No, no, hai fatto la scelta giusta, Michele è sicuramente super esperto, super valido, lo dimostra su curriculum in quanto a gare fatte, solo quello parla per lui. Io poi ho dato un'occhiata a tutti i tuoi vari profili, pitra, duv, eccetera, eccetera, e proprio dici che corri da poco, infatti se non mi sbaglio tu hai esordito, cos'è, un paio d'anni fa al Trail dei Nebrodi, e tra l'altro hai vinto subito, giusto? E com'è andata? Sì, oddio, è stata tragica come gara, proprio bruttissima, perché ho beccato proprio, allora la gara è stata, non l'hanno ridotta, c'era tempo bruttissimo, non l'hanno ridotta la gara, ma l'hanno, diciamo, fatta a un circuito da, non mi ricordo quanti chilometri, 22, così, che tu ripetevi in continuazione, e come prima gara di ultra, diciamo, era a 62 chilometri, non mi ricordo, è stata tragica, ho detto, oddio, mai più, cioè, tra l'altro era, essendo, non vedevi niente, era proprio brutto il tempo, quindi non mi sono goduta niente, cioè non vedevo l'ora di finire, e quindi è stata tragica, però comunque non mi sono scoraggiata, diciamo, ho continuato. Direi, dai, contanto quella è andata bene, perché comunque hai vinto, quindi... No, sì, vabbè, ovviamente una gara in Sicilia, così, non c'era tanta concorrenza, però diciamo che per quello, infatti ci ho messo un'infinità di tempo a farla, un po' per le condizioni, un po' perché non ero ancora minimamente in grado di fare una cosa del genere, così, però poi diciamo che sono andata migliorando, come gare, come giusto allenata in un certo modo, poi da Michele, già ho capito, ho iniziato a capire, insomma. Lì eri già seguita in quel momento lì? No, no, no. Hai fatto lo step poi successivo, anche perché ho visto appunto sempre le gare, nel 2022, sei andata molto bene, hai fatto delle signore gare, cioè il Passatore, undicesima, la W, Quarta, l'Utlm che hai vinto, insomma, l'anno dopo è stato foriero di buoni risultati. poi ho incontrato Michele, mi ha fatto capire come non dovevo allenarmi e come dovevo allenarmi, e di lì ho fatto proprio il botto, infatti siamo subito partite con gare, non brevi, insomma, il Passatore, sì, mi ha detto subito Passatore, la W, che secondo me è una gara bellissima, ma difficilissima, una delle più difficili, che abbia mai fatto, e poi il mezzo Thor, diciamo che anche quello è stato abbastanza impegnativo, però, e poi concludere comunque la gara che ho fatto meglio, che è l'Utlm, che è la gara del cuore, perché ho vissuto a Verbagna, sapevo a memoria i sentieri, lì è, comunque l'ho fatta molto bene, insomma, quando conosci i sentieri, poi lo sappiamo bene, è un altro discorso. Sì, aiuta decisamente. Ripartiamo dal ordine cronologico, riparto dal Passatore, perché così mi collego anche a una delle domande dei patrons, che è quella di Fabio, che ti chiede, vorrei avere, visto l'ottimo tempo con cui hai portato a termine il Passatore, qualche consiglio su come gestire il ritmo nel corso dei 100 km, in quali tratti andare più lento, in quali camminare, in quali tirare di più, e soprattutto, quali sono stati per te i tratti più critici? Allora, parto col dire che io l'ho vissuta malissimo, il Passatore, nel senso che, era la prima gara di Ultra che avevo fatto, quindi ho fatto tutti gli errori possibili e immaginabili, e non so neanche io come sono arrivata in fondo, perché dal cinquantesimo, dal passo della colla, si chiama, sì, quindi da metà in poi, è stata una tragedia, sono stata male, ero, ogni cespuglio era il mio, nel senso proprio male, sono finita che tra un po' non mi portavano via nella barella, disidratata completamente, sono stata male, l'ho finita perché io per mio essere, io una gara se parto, a meno che proprio non posso più camminare, la finisco, quindi mi consumo, e diciamo che, come consiglio che do, sicuramente la prima volta va fatta, ognuno deve sapere il ritmo che può tenere, non partire pensando di fare chissà che cosa, perché sono cento chilometri, e quindi nel senso, uno deve sapere qual è il suo ritmo, piuttosto partire più piano, come si dice in tutte le gare, poi arrivare a metà che ne hai, e poi spingere, soprattutto io consiglio, l'errore principale che ho fatto io, che poi mi ha portato a star male, è l'idratazione, che io ho fatto l'errore di bere sali in continuazione, pensando che c'era un caldo esagerato, probabilmente la concentrazione non era giusta per me, e questo mi ha fatto ancora di più star male, a livello intestinale, e disidratarmi ancora di più, quindi no, quello sicuramente, avere una propria strategia, chi può farsi seguire, chi, cioè andare con una strategia ben precisa, io non sapevo niente, l'ho fatta così come, come il mio solito, quindi è lì, primo errore, però dagli errori, secondo me, si impara. Sì, sì, decisamente, decisamente, comunque insomma, l'hai fatta alla fine dell'undicesimo posto, che comunque non è male, considerando che era la prima volta, credo che facevi 100 chilometri. Sì, sì, esatto, è stata proprio la prima, ho iniziato lì, a fare una distanza così lunga, ci ho messo anche dieci ore qualcosa, che non è, non è male, per essere la prima volta, dai. Sì, sì, e poi mi ricordo, chi l'ha fatta, che c'era un gran caldo, quel giorno lì, quindi. Eh sì, ma il problema è che tu parti, che c'è caldissimo, e finisci al passo della colla, che comunque sei a, mille, qualche, mille e cento, che faceva freddo invece, quindi io non mi sono neanche cambiata, sono partita subito, perché sono arrivata in quel momento, che seminavo tutti in salita, perché io, ne venivo dal trail, stavo proprio bene, era il momento, lì devo aver preso freddo, non mi sono cambiata, non mi sono vestita, sono partita per la discesona, all'ombra, al freddo, e lì è stato il secondo, errore fatale proprio, che consiglio a tutti di non fare, a chi vuole, prendersi un momento, per cambiarsi, mettersi una maglietta asciutta, oppure avere uno smanicato, qualcosa da mettersi addosso, e si passa, secondo me è una cosa fondamentale, proprio, per il resto, uno, secondo me, ci deve arrivare preparato, deve sapere quello che può fare, quello che non può fare, se uno vuole fare bene nelle gare, soprattutto nelle ultramaratone, negli ultratrail, secondo me la gara va fatta e rifatta, non c'è niente da fare, quindi che stanno i ritorni? ritorno, ritorno, purtroppo l'anno scorso, secondo me, l'avrei, cioè, sono arrivata che ero preparatissima, per farla, ci avevo puntato tanto, l'avrei fatta molto bene, secondo me, sicuramente sotto le dieci ore, tranquillamente, contavo di farla, cinque, cinque, cinque di media, il problema è che, purtroppo è successo, quello che è successo, me l'hanno annullata, quindi mi è rimasta, sicuramente ero triste per le, diciamo, le persone che, e poi mi è anche dispiaciuto non poter fare la gara, ci tenevo, quindi quest'anno la rifarò, ma non puntandoci comunque come l'anno scorso, perché il mio obiettivo è la Lavaredo, e basta. E anche quella la rifai, adesso poi ce ne parliamo, rimaniamo un attimo sempre sul 2022, perché comunque, dicevamo che hai fatto un sacco di gare, e ho notato che la distanza è più o meno sempre quella, cioè è stato ovviamente un po' di saliscendi come lunghezze, però più o meno sono sui cento chilometri di media, diciamo così, poi qualcosa meno, qualcosa più, e infatti tutte abbastanza, diciamo, scaglionate nel tempo, tra l'appunto il passatore e arrivare fino a fine stagione, come hai fatto a mantenere, e ti ha fatto mantenere evangelisti, una forma buona, anzi increscendo, perché poi i piazzamenti sono andati sempre migliorando? Beh, diciamo che lui mi ha studiato la stagione, in modo che, per dire, il passatore servisse da lungo per la LUT, la W serviva come preparazione, diciamo, era la prima, la LUT, scusami, il passatore era la, e il lungo per la W, la W era un po' il trampolino di lancio, cioè fammi provare effettivamente cos'era un ultra trail, e infatti me l'ha detto lui stesso, ha detto, guarda che è molto difficile come gara, molto tecnica, molto, il dislivello è parecchio, e quindi quella era un po' la prova per capire cosa fosse un ultra trail, perché poi un ultra maratona già è molto diversa da un ultra trail, il passatore già magari corri di notte, però è tutto illuminato, sei su strada, già invece lì passavi a correre di notte sui sentieri, che già, poi non essendo una gara come la Lavaredo, per dire, non è che c'è tutta questa gente con cui ti ritrovi la notte, quindi era già una cosa per farmi assaggiare, per poi arrivare quella che, la gara a cui puntavamo, comunque era il mezzo tour, anche per avere la qualifica, poi per fare il tour che avrei dovuto fare, e che poi non ho fatto purtroppo, quindi quella doveva essere l'obiettivo della stagione, secondo me ci sono arrivate increscendo bene, era tutto studiato, nel senso il carico per arrivare, comunque le due gare prima erano lunghi, comunque non erano gare, io dovevo arrivare lì bene, ci sono arrivata bene, ma poi secondo me non bene come la UTLM, che stavo proprio da Dio, benissimo, e forse ragionandoci poi, perché con Michele poi ci ragioniamo dopo, il fatto che poi sono andata in ferie, dopo mi sono riposato, staccato completamente, ovviamente potrebbe essere stata una cosa, che a me personalmente, è una cosa che aiuta, che fa bene, comunque siamo andate in Sardegna, abbiamo fatto il giro della Sardegna in bici, ho fatto tutt'altro, non che non mi sono allenata, qualche corsetta, però senza seguire una programmazione, sono arrivata che ero in piena forma, comunque ero riposatissima, stavo bene, quindi insomma è stato un po', comunque il primo anno era un po' anche lui di test su di me, io stessa, quindi non è che, però è stata un crescendo studiata, in modo da questo era a lungo per questo, questo era, però si puntava a una gara sola diciamo. Ok, e allora com'è stato il mezzo Thor, il Todd Red? Il Todd Red è bello, un'esperienza bellissima, cioè penso, io sono partita, già neanche Michele pensava che riuscissi a fare quel tempo, quel risultato, io nemmeno, sono partita molto tranquilla, faccio quello che riesco, come faccio in tutte le gare comunque, perché non è che parto, e vedo com'è, poi sono sempre stata bene, non ho mai avuto problemi, mi sono sempre sentita bene, ho conosciuto Katrin, con cui, che ha fatto seconda anche lei, siamo arrivate insieme, e abbiamo fatto praticamente metà gara sempre insieme, mi sono divertita, e poi è uscito un bel risultato, insomma. L'ambiente del Thor, come l'hai sentito? Molto sentita dalle persone, sono loro stessi che partecipano alla gara, i Valdostani sono molto impallati, e l'ho visto anche poi nel Thor, in quel poco che ho fatto, quei 150 chilometri che è durato, l'ho visto che è veramente sentito, bellissimo, anche lì una bella esperienza, un bel ambiente, e niente, questo mi è piaciuto. Ti rimarrà, perché comunque poi l'hai provato, e vorrai rifarlo? No, 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 assolutamente. Ok. Lì è stata l'unica gara che mi ha fatto capire, che tipo di gare fanno per me, diciamo, se devo fare gare, il Thor, che non è una gara, comunque è un'esperienza prima di tutto, non è l'esperienza che fa per me adesso, per questioni di tempo comunque, perché io ho parlato, ho fatto anche lì, un bel po' di gara con Elisabetta, che poi ha fatto un risultatone, amica di Katrin, Valdostanadoc, che quando mi ha detto, io è la quarta volta che lo provo, e mi ha detto io, cioè nel senso, era molto più pronta di me, a fare una cosa del genere, e lì già avevo capito che, non avevo capito niente, insomma, che andavo alla cieca, e che nel Thor non te lo puoi permettere, perché 330 chilometri, non li finisci, e infatti non li ho finiti, comunque, però adesso non sono in grado, non ho nel tempo, nelle possibilità di dedicare, così tanti anni, così tanto tempo, a un'esperienza del genere, e quindi per ora lo accantono, chissà, poi magari più avanti, si vedrà, ma per ora no, di certo non quest'anno, e nemmeno quello dopo. Ok, ok, no, ho fatto l'apparente su questo, e danno per scontato, però che la gente lo sapesse, cioè te, in quest'anno, nel 2000, anzi l'anno scorso, nel 2023, l'hai provato a fare, poi purtroppo, non l'hai chiuso, però, comunque, l'ho dato per scontato, ma in effetti, magari qualcuno, non l'abbiamo detto, non lo sapeva. Ok. E tornando invece a 2022, poi ha fatto appunto l'Utlm, che hai vinto, questa com'è stata di gara? Bellissima, me la sono goduta, dall'inizio alla fine, mi sono sentita sempre benissimo, poi conoscevo a memoria i sentieri, perché mi ci sono allenata tutto l'anno, quindi sapevo benissimo a memoria, sapevo quando spingere, quando tirare il freno, come erano i sentieri, dove potevo andare un po' più veloce in discesa, un po' meno, perché era più tecnico, insomma, conoscevo ogni singolo dettaglio, poi era, sono legatissima a Verbania, era un po' come la gara di casa, come se fosse Genova, praticamente, era la gara di casa, perché mi ha dato tanto, Verbania mi ha lasciato tanto, sono tuttora dispiaciuta di averla lasciata, ma il lavoro vuole questo, quindi no, però è stata una gara, l'ho gestita benissimo, da tutti i punti di vista, sia dello sforzo, alimentazione, integrazione, conoscendo la memoria, sapevo tutto, cioè non, non mi ha dato nessun problema, e mi sono divertita, poi l'ho vinta, quindi ancora meglio, insomma, ho fatto anche il record del percorso, quindi, scontenta, direi di sì, direi di sì, a proposito di questo, tu come ti gestisci il livello di alimentazione su gare così lunghe? Eh, anche lì ci vuole tanto tempo, bisogna fare tanti errori, bisogna testare in allenamento, ma per quanto puoi testare in allenamento, poi in gara, va sempre qualcosa, c'è sempre qualcosa che non funziona, va sempre qualcosa di storto, che sia il tempo, che sia la frenesia della gara, insomma, devi, secondo me anche lì, l'ultra trail, non solo nel sede della gara, che è un ultra, anche in tutte le gare, tutto un insieme, cioè devi fare gare su gare, anni su anni, ma un po' come tutti gli sport di endurance, non ti basta un anno per capire queste cose, lo devi fare, cioè, io dopo dieci anni di canottaggio, ancora non avevo capito niente, l'ho capito a 32 anni, che avevo già smesso, quindi no, bisogna, e lo sport è un viaggio, lo sport di endurance è soprattutto un viaggio, bisogna provare mille volte, sbagliare mille volte, più o meno ora so, bene o male che cosa funziona per me, però ripeto, c'è sempre l'errore, non sempre va bene, in senso no, per dire al Thor, ho avuto un colpo di sonno, allucinante, che non mi aspettavo, perché non mi era mai successo di giorno, questa volta, mi è successo, però, sono cose imprevedibili, insomma, come alimentazione, tendo, cioè, comunque a mangiare sempre le stesse cose, che so che, digerisco bene, mi fanno bene, che uso anche in allenamento, per dire una cosa che so, che io per esempio, di notte, non riesco, non riesco a mangiare, quindi vado con i gel, ho provato mille tipi di gel, quelli che, per dire, ora, uso quelli della GU, perché li tollerò bene, mi piacciono, vanno giù, e quindi uso quelli, e di giorno, vedo che, per un fatto di pancia, per stare bene, mangio quasi sempre solido, e non barrette, o cose che, mi danno fastidio, no, mangio patate, riso, insomma, mi porto dietro un po' di tutto, mi preparo delle tortine di castagne, colletto sul libro di Olmo, che funzionano bene, e quindi ho provato, ho detto, vabbè, proviamo, e funzionano bene, ai ristori, tendenzialmente, prendo zucchero, poca roba, perché non sapendo, magari, cosa mi, cioè, se mi fa, se riesco a digerirlo, no, non mi azzardo, di solito mi porto tutto dietro, ovviamente, dipende dalla lunghezza della gara, però, per dire, gare alla lutte, ho mangiato il riso, ce l'avevo alla base vita, per il resto, mi portavo dietro poco alla volta, me lo portavo, c'era Serena, la mia compagna che mi seguiva, mi ricaricava pian piano, e quindi, se hai la fortuna di essere seguito, puoi farlo, insomma, se no, anche lì ai ristori, prendi, prendo quello che so che non, assolutamente non mi fa male, quasi sempre lo zucchero che butto nella borraccia, o me lo mangio così, e basta, sì, non ho segreti, ho un segreto, mi porto le galatine, come caramelle, non uso gli orsetti gommosi, che mi fanno schifo, che vedo che usano tutti, io vado di galatine, perché da quando sono bambina, che me ne mangio, non mi danno fastidio, e mi fanno piacere, quindi vado con quelle, l'unica cosa particolare, che mi viene in mente, no vabbè, le galatine mi mancavano, perché almeno personalmente, c'è un po' di latte, qualcosa, non la sentirei, no, infatti, io ho provato, nel senso, si prova, assolutamente, così, fai benissimo, a proposito di Serena, hai proprio il suo supporto, ormai costante, ormai anche negli allenamenti, ovunque, sì, sì, beh, ovviamente, a parte che allenarsi in due, è sempre più facile, ovviamente siamo a livelli diversi, però, sempre in accordo, col mio preparatore, cerchiamo di, conciliare le due cose, magari io mi alleno con lei, quando sono un po' più stanca, e si riesce, è bello, è molto più divertente, riusciamo, bene o male, ad andare insieme, magari qualche allenamento, un po' più spinto, no, però, si riesce, Michele gestisce tutto, se, glielo chiede, di lui, lui calcola e gestisce. Ma lei l'hai convinta te al trail, o era già per la quale? No, anzi, odiava la corsa, correva dieci minuti, si metteva a piangere, non ne voleva sapere, ha detto no, mai, e poi, alla fine, quando inizi, senti che ti fa star bene, senti stare nella natura, correre, tutto quello che ti dà, poi, se ti droghi una volta, ti droghi sempre, no, non smetti. Siamo tutti sulla stessa barca. Eh sì, di qualcosa ci si deve drogare, per forza. O di corsa. Esatto. Venendo e tornando a te, nel 2023, se andiamo avanti cronologicamente, hai provato anche la maratona a Milano, e tra l'altro, più che rispettabile, sub tre ore, come è stato venuto in mente, di fare una maratona su strada? Ma, diciamo che a me piace, mettermi alla prova, su quello che non mi piace, soprattutto, nel senso, quello che non mi riesce bene, dico, lo devo fare, devo provare, e siccome correre su strada, comunque, non mi piace, non mi piacciono le ripetute, non mi piace tutto quello, che riguarda la preparazione, di una maratona, ho detto, vabbè, voglio provare a vedere, se senza preparare la maratona, perché poi effettivamente, Michele non me l'ha fatta preparare, imparare, io non ho mai fatto ripetute, niente, era sempre un, messa nel programma, come è lungo per il passatore, che poi non ho fatto, però non l'ho preparato, ho detto, però voglio vedere se, se senza prepararla, dedicandomi, ci riesco a battere questo muro qua, delle tre ore, e devo dire che l'ho fatta bene, poi in maratona, io ho difficoltà a bere, durante le gare, più è veloce, più faccio fatica, mi disidrato, bere, a mangiare, quindi era un po', volevo proprio testare questo, siccome tutte le altre maratone che ho fatto, perché ho fatto quella di Palermo, mi sono sempre sentita male, perché non riuscivo a bere, né a mangiare, ho detto, devo impuntarmi, e cercare di, di fare questa cosa qua, che non mi riesce in maratona, perché una gara, più è lunga, più riesco, perché comunque il tempo te lo prendi, non è che se perdi un secondo, non cambia niente, non cambia niente, in una 120 km, però in maratona, già, hai un po' più di paura, diciamo, per, però ero preparata, anche lì l'ho gestita bene, anzi, forse sono partita col freno a mano, perché, ho fatto gli ultimi 8 km, sotto i 4, tranquillamente, quindi, sono partita un po' piano, forse, però, è andata, nel senso, contenta del risultato, cioè, nel senso, banale, non è che un risultatone, per me, era, andava bene, non è banale, pensi di, no, diciamo, rispetto a quelli che fanno le maratone, cioè, è un tempo, brutto, però, per me, che avevo questa fissa qua, del muro delle tre ore, è andata bene. Sì, chiaramente, per fare una cosa più tecnica, hai delle fibre dedicate più all'endurance, che è la parte più esposiva della maratona, quindi, è normale anche che, comunque, non sei super, infatti, io volevo, volevo vedere quello che riuscivo a fare, senza dedicarmi, senza avere una preparazione da maratona, ma, tutt'altro, quindi, questo. E la rifarai? Vuoi provare a riabbassare il tempo? Prima o poi? No, me ne frega niente. No, me ne frega, ma ora, non ho la testa per mettermi a spingere, non ho voglia, e quindi, io so che quando una cosa non riesco a farla, anche perché, tanto non mi paga nessuno, nel senso, io faccio, se una cosa non mi diverte, non mi stimola, non la faccio, anche perché so che la farei male, quindi no. preferivo magari fare la 50 di Romagna, per cambiare un po', per fare, è giusto per avere sempre un lungo da utilizzare per il passatore, e questo, se riuscirò a farla, poi sempre compatibilmente con le ferie, con, altrimenti, niente, andrò diretta al passatore, questa volta. e poi andando avanti, ho visto che hai fatto il Marchesato, Genova 3, quindi una gara di casa numero 2, tra l'altro seconda solo dietro la Val Massoi, quindi insomma. Eh, tanta roba. Tanta roba, esatto, tanta roba, esatto. No, infatti, devo ammettere che quella gara lì, vabbè, a parte che era la gara di casa, mi faceva piacere, tra l'altro sui sentieri che io non ho mai visto, pure che sono di Genova, perché mi alleno più verso il Levante, diciamo, verso Portofino, quindi non li conoscevo, ho detto, vabbè, facciamolo, ho letto che veniva Martisca, ho detto, vabbè, impariamo qualcosa, dai. Infatti, sono partita dicendo, ero sotto carico, quindi ero stanca, non avevo di salita, non avevo niente, insomma, lo sapevo che andavo un po' proprio in guerra, senza niente, cioè proprio completamente impreparata, inerme, però ho detto, cerco di tenerla finché posso, cerco di estrapolare più informazioni possibili, infatti l'ho stalkerizzata praticamente finché l'ho tenuta, e basta, poi quando non ce n'ho più, la lascio andare, infatti così è stato, con la mia gara è stata quella, mi tiro il collo finché riesco, poi, e poi basta, però, vabbè, anche lì non è che l'ho fatta male, insomma, non ho fatto la mia gara, perché volevo stare con Martisca, che non faceva sicuramente il mio passo, quindi mi sono scoppiata, però l'avevo messo in conto, e avevo piacere di farlo, perché comunque era una gara che non, non avevamo programmato, era così, ho detto, vabbè, ce l'ho lì, avevo il giorno libero dal lavoro, ho detto, va bene, così, perfetto. Perfetto, cosa hai imparato dalla Valmassoa, hai riuscito a capire qualche segreto? Sì, sì, tante cose, vabbè, tanto ho capito la differenza abissale, comunque c'è tra un atleta che fa trail da tanto tempo, cioè che si conosce, che sa, cioè ho avuto proprio l'impressione di una che sapeva esattamente quando spingere, che cosa fare, rispetto a me, che non avevo, come al solito, idea di, cioè io vado in gara, dico, vabbè, così, perché non mi conosco ancora su queste tipologie di gare, pur essendo corta rispetto a quelle che avevo. Rispetto a quei standard, sì. Esatto, però, anzi, delle volte ho più paura di fare una gara corta perché non so come gestirla, perché ormai sono tarata per i 100 chilometri, quindi, già, però io ho avuto l'impressione di un atleta che sa esattamente per 45 chilometri come gestirsi, quando bere, quando, qualsiasi cosa, e infatti era così, cioè questa è stata la cosa principale che ho visto e che mi ha fatto capire, ma lo sapevo già, di essere ancora indietro ogni luce rispetto a quelle forti, e che ce n'è ancora tanta strada da fare, insomma, comunque ti difendi più che greggiamente, devo dire, devo dire. Vabbè, ci provo, poi. per fare una parentesi proprio geografica, comunque ogni tanto vedo che sconfinati anche dalle mie parti, non solo Portofino, ma anche in zona 5R, ma anche in zona 5R, ma anche in zona 5R, ma anche in zona 5R è stata la mia un po', dove mi sono allenata più spesso, dove ho fatto la notturna con Serena per, in previsione del Toro, l'ultima notturna che ho fatto, ce le siamo fatte tutte di notte, partendo da Riva Trigoso però, insomma, dovevo fare circa 11 ore di notturna, e quindi, ma poi sempre, ci siamo sempre, mi sono sempre andata ad allenare lì, poi ovviamente i sentieri sono sempre pieni, perché sono turistiche, quindi farle di notte è stato bellissimo, perché non c'era nessuno, ovviamente, ed è stata, ce l'ho vista anche sotto questo aspetto qua, che mi mancava, e vabbè, sono bellissime le 5R, come la Liguria. Sì, è tutta bella cattiva, poi con quelle scale mortali. Esatto, sì. Però dai, prima o poi, magari farò assistenza, perché il passo non è lo stesso, però una volta che vieni ti faccio assistenza, ti porto da bere. Va bene, ok, ci sto. Quello posso farlo. Va bene. Poi, tornando a noi, dopo hai fatto la LUT, che è forse stato il main event dopo il Tor, diciamo, della stagione, e sei andata anche lì decisamente bene, cazzarola, nona, se l'ho letto bene, ho scritto bene, com'è stato fare la gara di tail, penso, più importante d'Italia. Eh, sì, vabbè, oddio, c'è l'UTMB, che va bene, Italia-Francia, sì, Italia-Francia, però, vabbè. Allora, lì, tanto ero, secondo me, ero preparatissima per farla, ero, cioè, mi sentivo proprio preparata, per una volta, fisicamente, anche, avevo pianificato tutto, giusto, integrazione, Serena che mi seguiva, i ristori, di qualsiasi cosa, eh, però, ovviamente, quando, come quando pianifichi tutto, e vai con mille aspettative, va tutto storto, e così, e sta. Insomma, allora, eh, prima cosa che è andata storta, è che ovviamente, io, c'ho la solita sfiga, che la frontale, in piena notte, mi abbandona, non so perché, già mi era successo, in precedenza, la stessa frontale, ho detto, non lo so, sarà, che era, cos'era, al, al, al mezzo Thor, mi si era spenta la frontale di notte, infatti, li avevo pagato, mi ero dovuta attaccare a un, un francese, non mi ricordo, perché non vedevo niente, e non c'era nessuno, e lì mi sono tirata al collo, per tipo, dieci chilometri, per non rimanere al buio, perché non vedevo niente, mi si era scaricato, cioè, non funzionava più quella, né le batterie di riserva, quindi, non lo so, stessa cosa, è successa la lutte, per fortuna, ho avuto poco, a parte che c'è tanta di quella gente, che è difficile che stai al buio, però, qualche difficoltà, poi mentalmente, dire, no, cavolo, cioè, mi sono un po' scoraggiata lì, però bene o male, ero già a misurina, quindi, diciamo che non mi sono, destabilizzata troppo, dai, così, poi, dopo, prima, discesona, dopo le tre cime, dopo l'alba, le tre cime, bellissima, che è la cosa più bella, che abbia mai visto, discesona, ho preso in pieno, un sasso, e mi sono rotta il dito, infatti, sono stata con il dito rotto, per, l'unghia che è partita, il dito che mi faceva malissimo, insomma, mi sono trascinata, da lì, ha iniziato poi a farmi male la gamba, perché ovviamente, mi trascinavo, probabilmente, non lo so che cosa ho fatto, in tutto ciò, poi a un certo punto, verso la fine, dopo passo già, ho iniziato a avere giramenti di testa, non capivo che cosa, mi sentivo debolissimo, ho detto, strano, tocco finale, mi è venuto il ciclo, nel mentre, così che, non doveva venirmi, ma va bene così, purtroppo, problemi delle donne, che, vabbè, ci nemmeno pari conti, spiega proprio, sì esatto, diciamo che è andato tutto, un susseguirsi, un concatenarsi, di mille sfighe, tutte nella stessa gara, che ovviamente, era quella su cui puntavo, e quindi, diciamo che anche lì, mi sono fermata, mi ricordo, per quasi un'ora, perché mi girava la testa, io non capivo, ho provato a mangiare, ma non mi riprendevo, dopo mi è venuto, dopo ho capito, perché pian piano, mi sono ripresa, ho finito, però, diciamo che io, come obiettivo, secondo me, ero da 16 ore, e ce ne ho messo 17, un'ora in più, secondo me, le 16 ore, erano tranquillamente, alla mia portata, per come ero allenata, anche secondo il mio allenatore, e quindi, purtroppo è andata così, non mi lamento, perché comunque, era la prima volta, che non l'avevo mai vista, e anche lì ora, conoscendola, so che farò una gara, completamente diversa, e lì, non l'avevo proprio mai vista, non avevo mai visto i sentieri, tranne magari, quello classico, delle tre cime, è fatto così, per tre, con un trekking, ma, per il resto, travena, ansia, non ho mai visto niente, io, e quindi, ovviamente, ora, ci vado già, con un'altra mentalità, conoscendola, però, questo, sono contenta, comunque, ho fatto, quello che devo fare, mi sono difesa, lo stesso, nonostante tutte le, le sfighe, fa parte dell'ultra trail, ci sta, è normale, va bene così, la tenacia, penso che, non ti manchi, quindi, loot, obiettivo principale, 2024, principale, unico, perché farò una, sì, farò una sola gara, perché, tra il lavoro, comunque, io, avevo la qualità, nel senso, potevo, non passavo dal sorteggio, per l'UTMB, quindi, all'inizio, avevo questa cosa, faccio l'UTMB, è il momento, perché voglio, voglio vivermi questa esperienza, perché, già che non passo al sorteggio, perché no, problema che, tra lavoro, tempo di allenare, cioè, è un investimento, parecchio, cioè, di tempo, di soldi, e, cioè, l'UTMB là, ti devi allenare, non ci vai così, tanto per, almeno, per come sono fatta, io non ci vado così, per, vado per fare il meglio, che posso fare, e in questo momento, non lo posso fare, né, ma anche come testa, ora, non è che sono particolarmente, sento che non, quest'anno, non è cosa, era meglio, magari, puntare a una sola gara, e poi dedicarmi, poi il fatto, dipendendo anche, dalle ferie estive, perché, essendo in polizia, comunque, hai un piano ferie, non è che puoi andartene, quando vuoi, comunque, devi, diciamo, che se vuoi fare, queste due gare qua, devi rinunciare, a tante altre cose, per dire, viaggi in bici, che abbiamo pianificato, con Serena, mille cose, abbiamo il van, queste cose qua, comunque, nuove esperienze, che mi fa piacere fare, che, ad oggi, preferisco, ad un, UTMB, anche perché, ripeto, non sono professionista, quindi, non è che mi interessa più di tanto, non è che devo dimostrare niente a nessuno, se non a me stessa. No, condivido l'idea, se faccio distanze più corte, ma il concetto è sempre quello, cioè, noi non siamo professionisti, si fa per, per divertirci, se c'è una cosa che deve essere un sacrificio, e sacrificare cose, che per noi sono più importanti, non vale la pena. Esatto. Mi collego, proprio a proposito di questo, di van e quant'altro, anche per, perché non mi ha trovato nuovamente Serena, per il discorso di YouTube, e del sito, perché comunque, tu racconti anche un po', la tua vita da atleta, e quant'altro, quello che ci gira intorno, come ti è venuto in mente, di parlarne, cosa ti ha spinto a farlo? Ma, tanto perché, ripeto, cioè, mi piace condividere con le persone, anche, è un divertimento, non è che anche qui, non è un lavoro, non è che mi paga nessuno, mi piace trasmettere, quello che faccio, da, nel senso, da persona normale, da, da appassionata, semplicemente, perché io, quasi sempre mi sento dire, dalle persone, colleghi, ah, io non ho tempo, ah, mi piacerebbe, ah, queste cose qua, a me un po' danno fastidio, perché, secondo me, cioè, uno il tempo, se lo crea, se uno ha passione, a me non è un sacrificio, alzarmi alle 5 di mattina, andare a correre, prima di, di fare il turno, diciamo, eh, diciamo, voglio trasmettere, mi fa piacere trasmettere, questa cosa qua, che non è sport, è benessere, più che altro, cioè, io prima, lo faccio, per bene, per il mio piacere, perché mi fa star bene, al di là dello sport, se non facessi gare, io, correrei lo stesso, nel senso, non è che, Serena che non fa gare, o comunque, e ora che si è appassionata anche lei, ora qualche gara la fa, ma non è che ci punta, anche lei fa piacere, nel senso, lo fa per piacere suo, per stare insieme, per, e quindi voglio trasmettere questa cosa qua, la corsa, non vista sempre come fatica, come allenamento, ammazzarsi, ammazzarsi, che sembra, no, come anche, piacere, benessere, esplorazione, perché noi ci divertiamo anche, a girare i posti correndo, in bici, secondo me, con la fatica, apprezzi sempre, di più, qualsiasi cosa, un viaggio in bici, ti entra dentro molto di più, che farlo, secondo me, con la macchina, è uguale di corsa, anche le gare all'inizio, a parte se non ho l'obiettivo di farle bene, io ho iniziato perché, faccio una gara di 100 chilometri, vedo paesaggi spettacolari, tutti in una volta, e faticando, appunto, non me li scordo, cioè, non me li scordo mai, no, infatti, cioè, una cosa, per dire, al Torre, che ho faticato, ora non mi ricordo come si chiama, il punto più in alto, 3.300 metri, arrivavi un'alba spettacolare, una malattra, no, non è il malattra, quella è l'ultima, è l'ultima, la fine, è vero, hai ragione, no, io parlo del Torre, che non mi ricordo come si chiama, il colle più alto, ora non mi ricordo bene come si chiama, un po' mi viene in mente, una fatica assurda, già stavo, non mi sentivo benissimo in quel momento, la notte era stata abbastanza tragica, tra mal di stomaco, un freddo cane, però, quando sono arrivata in cima, ho visto quel, quell'alba lì, quel panorama lì, spettacolare, non te lo dimentichi più, e quindi già il fatto di arrivarci con la fatica, pure che stai male, che ti trascini, secondo me ti entra più dentro, che guardarti qualche cosa con la macchina, con la seggiovia, per dire, con queste cose qua, e quindi voglio un po', mi piace trasmettere questa cosa qua, abbiamo fatto il sito, anche perché mi piace scrivere, ci piace scrivere, quindi, tra sito, YouTube, anche lì, per far vedere un po', quello che facciamo, sempre per trasmettere questo messaggio qua, poi Instagram lo uso, apposta per quello, e anche perché la gente mi chiede, per dire con cosa corri, con che scarpe, cosa fai, e a me fa piacere se, dare un parere, e penso di essere spontanea, nel senso, non consiglio mai, cioè se una cosa non mi convince, io non la dico, non mi interessa, cioè se, per dire le scarpe, se non mi ci trovo, io lo dico, se mi ci trovo lo dico, poi, nel senso, mi piace avere questa trasparenza qua, e mi piace usare i social per questo, poi, ripeto, non è un lavoro, mi diverto, ci divertiamo. Penso che si veda, che la cosa si proprio traspaia, da quello che pubblichi, che pubblicate, secondo me, è un piacere, personalmente, perlomeno è un piacere seguirvi, perché si vede che c'è, mi fa piacere, mi fa piacere. Tornando a te, invece, qual è la tua gara da sogno, perché ne abbiamo detto tante, che hai fatto magari, ma ce n'è una invece, che vorresti fare? Oddio, in, cioè, l'UTMB, volevo farla, ma non tanto per la gara in sé, ma per l'atmosfera che vedo dai video che mi guardo in continuazione, quindi mi piacerebbe vivere, vivermi quel momento, vedere, cioè, provare sulla mia pelle quell'atmosfera lì, di questo tifo, che vedo solo nel calcio, lo vorrei vedere anche, anche nella corsa, nel trail, per il resto, non lo so, oddio, ho tante gare che mi piacerebbe fare, quella, ma anche in posti diversi, anche all'estero, una Marathon de Sable, qualche cosa, mi piace variare, per dire, la 03000 in Sicilia, cioè, ne ho di, cioè, non ne ho una in particolare per dire, ah, non vedo l'ora di fare quella, non, mi piacerebbe, giusto perché mi piace esplorare, per quello che dico, punto a fare la, la LUT, perché la voglio fare bene, perché l'ho già vista, ora la conosco, e voglio dare il massimo, cioè, vederla proprio, e farla come gara, per il resto, non è che non farò, magari farò qualche altra gara, però la farò in ottica, senza prepararla, senza, così, ah, e un'altra cosa, che ho un po' in mente, mi piacerebbe fare, che è un po' che dico, la faccio, perché sempre lì a Verbagna, è un'occasione per ritornarci, Omenia, che anche a Omenia ci sono legate, ci siamo legate, sia io che Serena, la UT, la 100, che ho sempre detto, la faccio, poi per problemi di lavoro, che, non l'ho mai fatta, poi perché, avevo scelto, la, la UTLM, perché, secondo me, paesagisticamente, come gara, è più bella, e quindi, io ho scelto quella, mi faceva piacere fare quella, ora che ho fatto quella, mi piacerebbe fare quell'altra, insomma, giustamente, così, ma sempre, però ne ho in mente, anche quella, la gara che c'è in Valmaira, che, è tanto tempo che dico, la vorrei fare, mi, mi intriga più che altro, perché è una valle, che non conosco, non l'ho mai visto, e, secondo me, è bellissima, quindi, insomma, ho mille, mille idee, vedremo, comunque. c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, hai iniziato a correre, da due anni, tre anni, quindi. Sì, sì, conto di correre, fino a 60, 70, spero. Sì, dai, dai. Qual è invece, il tuo tipo, di allenamento preferito, anche che credo di sapere, la risposta? Oddio, tanto, non è un tipo, mi piace, mi piacciono i lunghi, mi piace, correre senza pensare, al tempo, senza, proprio, staccarmi completamente dalla realtà, non sentire niente, nessuno, stare da sola, o comunque anche con qualcuno, per carità, no. Però, stare tanto tempo fuori, nella natura, senza pensare a cose particolari, solo ascoltando me stessa, il passo, il ritmo, cioè, me lo faccio io, me lo sento io, quello che, questo è un po', però, devo dire che, non è che, delle volte, mi può anche pesare, fare un allenamento del genere, no? sono un po', dipende dal periodo, però, normalmente, quando corro senza pensare così, senza l'orologio, che, che poi lo guardi, ma, nel trail, è sempre relativo, perché io non sono che vado a vedere, non so, l'ascesa, la velocità, e di salire, non, se devo guardare anche quello, non, non vivi più poi, perché, già mi pesa quando guardo le ripetute, che sono sempre lì a guardare, il tempo, quindi, preferisco più, queste cose qua, i, i lunghi, mi piace di più. Ok, ok, e c'è un aneddoto, un momento, che ricordi volentieri, legato alla corsa, a questi anni di corsa? Ma no, un aneddoto particolare, no, cioè, io sono una che, si ricorda di tutto, cioè, tutte le esperienze che faccio, mi rimangono dentro, però, non dico neanche, cioè, non sono una che vive nel passato, non, non resto legata, a ricordi, ok, preferisco vivere, cioè, farli parte, sono parte di me, però, preferisco averne nuove, in continuazione, vivere, non è che resto legata, a un ricordo in particolare, posso dire, gare, che mi sono, nel senso, ce l'ho nel cuore, ma come ho già detto, la, la UTLM, ma più per il posto, perché, o per dire, la prima gara di trail, che ho fatto, che, che secondo me è molto bella, invito tutti a farla, anche se logisticamente, è in Sicilia, è secondo me, la, il trail dello Zingaro, che, paesagisticamente, è bellissimo, secondo me, è una gara, è breve, non è che sia, chissà che cosa, però, a me, piace, un po' perché, anche perché mi ricorda la Liguria, cioè, questo paesaggio, che sei sui mondi, però vedi anche il mare, insomma, però non ho un aneddoto particolare, non mi viene in mente niente, non c'è problema, non c'è problema, non c'è problema, ho ricordi solo belli, ma anche quelli brutti, di fallimenti, per dire il Thor, comunque, diciamo, non ho, non ho ripensamenti, non ho dire, se avessi fatto, cioè, non, non sono così, di solito, vado avanti, faccio tesoro, basta. Perfetto, va benissimo, va benissimo, e facciamo la classica domanda che faccio a tutti, cioè, te come fai a far convivere la corsa e gli allenamenti, che sono anche, immagino, belli lunghi, con le varie passioni personali, soprattutto gli impegni, quindi famiglia, lavoro, eccetera, eccetera. Beh, diciamo, è difficile, però, non sono sacrifici, cioè, non parliamo mai di sacrificio, perché, come ho già detto, per me è un piacere, cioè, a me fa star bene, quindi, trovo sempre un momento che io dedico a me, che in questo caso, nel mio caso, è correre, cioè, è un momento che sia un'ora, due ore, che dedico a me, e che poi mi fa passare bene tutta la giornata, 99 su 100, comunque, mi fa, non mi fa pesare niente, vado tranquillamente al lavoro, non mi pesa niente, diciamo, affronto tutto, anche i problemi, in un'altra ottica, e, ovviamente, magari, quando sei sotto gara, che aumenta il carico, devi fare cose, magari, un po' più specifiche, allora, lì, devi cercare di incastrare, coi turni, però, diciamo, secondo me, e soprattutto il non professionista, e anche il preparatore, comunque, che ti segue, che sa, che tipo di vita fai, devi stare attento a bilanciare tutto, comunque, a non stressarti troppo, da far coincidere tutto, sempre andando col divertimento, secondo me, non è, ovviamente, fai qualche incastro vario, cioè, vai a correre in orari improponibili, però, secondo me, finché non ti pesa, finché ti diverti, e sei nel giusto equilibrio, si fa, tranquillamente, ovviamente, non è che puoi fare tutto, io, per dire, ripeto, col tempo che ho adesso, per me, fare più di una gara, e una gara così impegnativa, come l'UTMB, secondo me, è impensabile, perché andrei, oltre che a stressarmi, a non, cioè, a non fare proprio più niente, dovrei dedicarmi a quello, e basta, eh, ad ora, non vale la pena, perché, sarebbe uno stress esagerato, che non me la fa più passare bene, poi per il resto, secondo me, si può conciliare tranquillamente, bici, o qualsiasi, nella preparazione, viaggi in bici, cose che comunque, finché ti diverti, riesci a, a far conciliare tutto, insomma, no, non vedo particolari difficoltà. Ok, e abbiamo parlato un po' di varie zone, quindi di Verbania, di Portofilo, delle Cinque Terre, di tutte le varie zone, c'è un sentiero, un percorso, che è tuo feticcio, che fai spesso, che ti piace, e che senti tuo. Eh, allora, siccome giro sempre, io, c'è un po', un po', in una, in ogni regione ne ho uno, insomma. Allora, qua a Genova, io salgo sempre qua sul Monte Fasce, che è il monte che c'è dietro casa, faccio sempre quello, insomma, perché mi viene comodo, e perché mi piace, è bello, secondo me, vedi tutta Genova dall'alto, è molto carino. E Verbania, c'avevo, vabbè, i soliti due monticelli, dove salivo sempre, che, e che sono quelli che, comunque mi piacciono di più, e che faceva, ci passa, ci passa anche la gara, la UTLM, quindi, anche per quello, ci sono legata, eh, ed erano sempre anche lì, dietro la caserma, quindi mi venivano bene, sapevo che facevo tot di slivello, quindi, poi bellissimi, quindi, erano lì, a Trento sto ancora un po', esplorando, perché, poi avendo il van, ne giriamo sempre, quindi, a Trento non ne ho ancora uno, proprio, dire, è il mio sentiero, ah, posso dire a Palermo, che spesso scendo con Serena, quindi ci alleniamo a Palermo, anche lì ho, a parte che ci sono tre sentieri contati, quindi, non è che, c'è tutto sto, c'è Pizzo Mollica, per dire, sembra Monticello da 400 metri, o Capogallo, e io salgo sempre lì, lo fai più volte, insomma, questi qua sono i sentieri, poi, dove vado, cambio, vedi, ogni volta ne trovo uno. È anche bello, cambiare, poi adesso Trento, io non la conosco tanto, ma tutti quelli che ci sono, dicono che sia la patria, praticamente, dell'outdoor, o giù di lì, e quindi, c'è lì che divertirsi. Vabbè, diciamo che Trento, cioè, più l'Alto Adige, diciamo che è un po' più, che non è vicinissimo, però diciamo che ne hai possibilità, sicuramente ne hai più che a Genova, ma solo che per la ciclabile infinita, e non devi correre nel traffico, in continuazione, come facevo qua a Genova, come, come fa, è già, è un altro, è un altro vivere, è un'altra mentalità, insomma, ti fai evadere molto più facilmente. Decisamente, pensi solo a correre. Esatto, sì, 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 poi per me che sono un po' a sociale, non incontrare nessuno per chilometri, è proprio, è il mio. Allora, andiamo verso le ultimissime domande, che sono quelle che faccio a tutti. Intanto, che cosa ti ha insegnato la corsa? Allora, prima di tutto, a conoscere me stessa, ad avere fiducia in me stessa, a sapere i miei limiti, le mie capacità, e, diciamo, ad accettarle, comunque. Ma, posso dire mille cose che mi ha insegnato, ma anche, cioè, mi ha portato a conoscere persone bellissime, fare amicizia con tantissime persone, con tantissime persone che hanno la mia stessa passione, che quindi sono uguale a me, e allegarci, allegarci tantissimo, nonostante magari le incontri solo per il momento della gara, per qualche chilometro della gara, già, leghi, leghi tantissimo, cioè, la corsa mi ha portato il trailer, proprio questo, cioè, per dire, ti faccio un nome, ho conosciuto Enrica, che, cioè, ci siamo viste poco alla fine, per, e ci vediamo poco, però, c'è questo legame che, che secondo me solo la corsa ci poteva, le gare, non la corsa, per dire, una passione così forte, che poi ora è la corsa, poteva essere un altro sport, per carità, però, questo, cos'altro mi ha insegnato, ma sostanzialmente è questo, va bene, va bene, no, più che altro la conoscenza di te stesso, comunque, secondo me ti insegna, ti insegna la corsa. Tu che consiglio daresti invece a un neo trailer runner? Allora, sicuramente di, di farsi, di andare con calma, cioè, con calma nel senso farsi seguire da chi, da chi è più capace, perché la corsa ti può, cioè, ti può dare tanto, ma ti, ti, ti può anche massacrare, ti può far male anche, e non lo dico, cioè, perché comunque è lo sport più d'impatto che, che ci sia, non è il canottaggio, non è il nuoto, non è la bici, quindi, improvvisarsi in, ultramaratonetti, secondo me, non, non va bene, no, è sempre meglio farsi, seguire all'inizio, comunque avere, dei pareri per calibrare bene, soprattutto, come dicevo prima, se si è, come, come me, non professionisti, comunque, mettere in conto anche la vita di tutti i giorni, che non è una cosa da poco, cioè, lo stress, il lavoro, pure che sia un lavoro sedentario, comunque, ti porta via energie mentali, che, poi, l'allenamento non deve andare a, ad infierire ulteriormente, anzi, ti devi magari far, evadere, diciamo, quindi, per calibrare queste cose qua, nel giusto modo, per poi, farti avere tutti i benefici, che ti può dare, questo sport, secondo me, farsi seguire, all'inizio, è fondamentale, da chi ha più esperienza, da chi, comunque, e fidarsi, per il resto, niente, bisogna, l'altro consiglio, è avere tanta pazienza, cioè, è un viaggio, che non è un, come una gara di ultratrail, è un viaggio, anche tutta la preparazione, non basta un anno, due, tre, cioè, dico, ne serve parecchio di tempo, per capire effettivamente, per conoscersi effettivamente, quindi, avere pazienza, e godersi, però, godersi il viaggio, senza, aspettarsi chissà che cosa, se hai i risultati, ben venga, però, bisogna pazientare, bisogna aspettare, proprio andare con calma. Fantastico, ti faccio l'ultimissima domanda, invece, che cos'è per te, il trail running, o l'ultra trail? Sempre, sempre il solito discorso, è un viaggio, dentro te stesso, un viaggio anche, cioè, alla scoperta di, comunque, nuovi posti, cioè, vedi cose che, magari, in un giorno solo, non vedresti mai, quindi, già, un ultra trail, per me, all'inizio era quello, ma, soprattutto, una conoscenza di te stesso, un, un saper, pian piano, capire, effettivamente, come funziona il tuo corpo, come funziona, ma anche gli allenamenti, i vari stimoli, e, io, io, sono appassionata, a me piace vedere, come reagisco, come reagisce il mio corpo, come affronto una gara, sia mentalmente, che, quindi, è tutto un po', tutto questo viaggio, che ti porta, sempre a conoscerti, la conoscenza maggiore di te stesso, e, a capire bene i tuoi limiti, e tutto, saper, anche gestire, l'ultra trail, è anche una gestione, non solo dello sforzo, maniacale, ma anche di tutti i dettagli, che a me, questo piace, cioè, sapere, cosa, come vestirti, come fare lo zainetto, sempre più leggero, sempre, partivo all'inizio con gaini, che pesavano 10 kg, ho fatto, il toto, drette che lo zaino, mi pesava 10 kg, adesso vado a vedere, la frontale, che pesa un etto, quella che, il cellulare piccolo così, insomma, sono cose che, almeno a me piacciono, un miglioramento, anche lì, è una conoscenza, che, sempre una cura, ulteriore dei dettagli, da quello che bevi, quello che mangi, qualsiasi cosa, e quindi, è anche questo, è sempre un, un evolversi, un conoscersi, un crescere. Esatto, esatto, hai detto benissimo, io ti ringrazio, prima di chiudere, però, dacci tutti i riferimenti, poi li metto comunque, nelle notte, ma dove la gente, può comunque, seguirti, trovarti. Ovviamente, mi seguite su Instagram, che sono attivissima, mi diverto, mi fa piacere, metto allenamenti, cavolate, da ridere, qualsiasi cosa, reel di qualsiasi tipo, se mi volete scrivere, per dei consigli, per la mia, poca esperienza, ve li, ve li do ben volentieri, materiali che ho provato, sensazioni, qualsiasi, come anche di logistica, delle gare che ho fatto, mi fa piacere aiutare, vabbè, mi trovate come Zacco Denise, semplicemente, poi ho il canale YouTube, insieme a Serena, che si chiama Trail al Quadrato, che pian piano, stiamo cercando, di farlo sempre meglio, ovviamente, non è che siamo YouTuber, ogni tanto pubblichiamo, compatibilmente, con gli impegni di lavoro, e poi ho anche il blog, che si chiama, Atleta di Fatto, e anche lì, ogni tanto scrivo, qualche cosa delle gare, qualche curiosità, qualche viaggio, esperienza che facciamo, anche di allenamento, insieme a Serena, anche quello, lo facciamo insieme, e basta questo. Va benissimo, va benissimo, io veramente, Ah, e su Strava pure. Giusto, 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 mettiamo anche Strava. Se volete così. Io ti seguo ovunque, tra parentesi, quindi devo, ho già tutto il nego. Bene, bene, fa piacere. Davvero, io ti ringrazio ulteriormente, per la disponibilità, per la chiacchierata, è stato un super, super piacere davvero. Grazie a te, piacere mio, molto, molto divertente, molto bello. Grazie, grazie a te, merito, ovviamente quasi sempre dell'ospite, perché io sono qua come un pagliaccio. No, ci monteremo, ma è vero. Dai, grazie ancora, veramente, ci sentiamo presto. Ciao, ciao. Ciao a tutti.